Sì, è una bellissima partita, abbiamo giocato bene, è tre punti importantissimi per noi, meno male che ha cambiato qualcosa per noi perché la Juve è sbagliata e allora il campionato continua aperto. Speriamo di continuare a vincere perché il nostro obiettivo fino alla fine è vincere questo campionato. Sì, ha ricaricato la squadra di più, adesso mancano due partite, sappiamo della importanza che c'è queste due partite per noi. Due finali e dobbiamo cercare di vincere queste due partite e poi vediamo alla fine cosa succede. Spero di fare il mio meglio, spero di stare in una bella serata e spero di aiutare la squadra a vincere questa partita. Inter c'è una bella squadra, sappiamo della qualità che c'è l'Inter, c'è giocatore che è davvero un grandissimo campione, però qua nel migliaio siamo troppo preparati per vincere. Sì, sono due grandissimi compagni, giocatori importanti per noi. Non so ancora se gioca Thiago, però speriamo che loro due possano tornare il più presto possibile, perché sono due giocatori importantissimi. Non mi dà fastidio, quando arriva alla fine è sempre così, il calcio. Io sono tranquillo qua, la mia testa è centrata qua nel Milan, e cerco di fare il mio meglio ogni giorno per aiutare la mia squadra. Sì, anche io voglio molto bene il tifoso milanista e sono molto felice qua.